Musica Serate importanti al Twiga Beach Club con Taste of Italy evento enogastronomico con degustazioni di eccellenze italiane oggi il viaggio è in Toscana tra Volterra e San Gimignano con aperitivo, cena servita e music dinner show come potete vedere la serata è già iniziato e si sta degustando il buono che c'è in Toscana partecipa alla serata anche Be Different, a voi il servizio Sono con Alessio Berni, presidente e fondatore della Be Different che si trova a Monte Rigioni a Siena buongiorno Alessio buongiorno Carol, grazie per la disponibilità Be Different è la nostra società che è nata nel 2016 quindi siamo ancora una sorta di start up a tutti gli effetti questo è il terzo esercizio che sviluppiamo Be Different nasce fondamentalmente perché abbiamo inventato e certificato un nuovo materiale che si chiama Polymass grazie a questo materiale che è una composizione fra lo stirene e dei rivestimenti polimerici riusciamo a fare tutta una serie di produzioni seriali e customizzate e produzioni personalizzate seriali intendiamo dire che riusciamo a fare prodotti quali complementi d'arredo, sedie, tavoli, appendi, abiti che vengono prodotti serialmente e distribuiti nel settore dell'arredo casa, arredo contract mentre le nostre forniture customizzate si rivolgono prevalentemente a tutto ciò che è arredo e scenografie personalizzati per aziende televisive piuttosto che teatrali ma anche aziende che usano i nostri manufatti per personalizzare le loro iniziative promozionali i nostri clienti più rappresentativi in questo contesto sono Rai, Mediaset piuttosto che Lavazza o altre realtà importanti al quale abbiamo realizzato anche format di negozi quali per esempio Ferragamo al quale facciamo dei prototipi personalizzati insomma tutte realtà molto importanti questo materiale ha delle caratteristiche eccezionali che sono la leggerezza l'ignifugazione, l'impermeabilità quindi ci permette di realizzare anche manufatti per esterno soprattutto nel settore visual communication quindi con il nostro Polymas riusciamo a realizzare insegne piuttosto che totem per caratterizzare gli esterni delle aziende di ogni e qualsiasi dimensione e identità ma che cos'è questo Polymas? il Polymas è il materiale che caratterizza la nostra produzione è un materiale che nasce come ho detto prima dall'unione del polistirene e questo rivestimento polimerico che gli permette di essere molto strutturale impermeabile, resistente soprattutto ci permette di fare tutte le lavorazioni senza vincolo di stampa quindi una persona può fare anche un singolo pezzo senza essere vincolato a grandi investimenti è un materiale resistente e come vedete se cade a terra non si rompe BIT DIFFERENT!